Salve a tutti, un breve report della Commissione 5, commissione che ha come materia commercio, infatti abbiamo invitato un'associazione di categoria, più precisamente Commercio, per presentare il nostro progetto di creazione di un tavolo di concertazione permanente con le associazioni. Questo tavolo di concertazione dovrà passare obbligatoriamente da legge regionale sul codice del commercio da un protocollo d'intesa, un protocollo d'intesa che verrà siglato tra l'amministrazione naturalmente e le associazioni e sarà fondamentale e determinante per scegliere i criteri, gli obiettivi da concertare. Per noi sarà fondamentale concertare determinati ambiti come la sicurezza, il decoro urbano, come un monitoraggio sugli eventi, come tante altre piccole cose che sono fondamentali e che le associazioni composte da commercianti vivono ogni giorno. Pensiamo che tutto questo, finito la campagna d'ascolto delle associazioni, si possa portare alla realtà entro un mese massimo, crediamo. Accettiamo contributi dalle associazioni di categoria che dovranno incrementare questo protocollo d'intesa. Abbiamo già dato mano all'ufficio commercio di procedere a stilare una bozza del protocollo per poi inviare le associazioni di categoria. Grazie.